3, 2, 1 Lo vedi il video? Sì sì Greve No, ma che figata Bello, bello Ma è proprio un film Ma sai che bello un film fatto così? Il giorgino Il giorgino Il giorgino Che succede? Punto zero Vedete se non è un luccino per avanti Non spoilerare Non spoilerare Non spoilerlo, però guarda Fra Hai visto Yoda Sì l'ho visto Yoda Ma che mappa è? Mi gasta già sta mappa Mi gasta di brutto Oddio il pancake Ma no C'è una schiena Frenissima Sì To be to town Tutte le cose vecchie Ed è solo l'inizio Fra pinnacoli Pinnacoli Allora che cosa aspetti La caccia è aperta Fra ma che cos'è Vabbè non lo prendo adesso Cioè Torniamo un attimo in lobby Ah ma ha dato delle cose extra tra l'altro Oddio Friere Fermi tutti Oddio la mappa che succede Allora La dobbiamo ancora scoprire Però guarda Che figata Quella è pinnacoli Questa è pinnacoli Era al centro Esattamente Quella è proprio pinna Però ho visto che c'era anche I vichinghi c'erano I vichinghi Vedi Ce n'è di zone curioso Sì ce n'è perché sta cambiando Tra l'altro chissà cosa succede Con il portale che c'è al centro Sai cos'è Le sfide Mi sa che hanno tolto Il sistema tipo sfide settimanali Capito? Ah mi sa di sì Sì sono tutte le sfide C'è hanno cambiato Sì Secondo me è molto meglio Perché ti ricordi come era incasinato Da quando iniziato Fortnite 2 Era molto incasinato Ma sì Era tanto bello Fortnite 2 Questo è molto più simile A Fortnite 1 Questo Partiamo dal passo Ci sei? Ok Allora Ah ma è la prima skin Io pensavo fosse una skin segreta Completo Ah guarda Completo di carico Per potenzione L'armatura È come con Omega e Carburo Sì è brutta Non mi piace No Questa è bocciata Andiamo avanti Il ballettino viola Viola Tra l'altro viola Oh fiero Ci puoi camminare Andiamo avanti Tra questa skin Questa roba è bella Guarda questa skin Il man cake Questa è la mia preferita Per ora Sì anche il piccone Guarda il piccone che è fiero Allora Poi andiamo avanti Oddio guarda avanti Lo stile aggiuntivo Con i baffi Questa è bellissima Questa è su tonica Fra c'è il suo balletto Che si mette lo sciroppo Da c'è in testa Best skin del pass Andiamo avanti Andiamo avanti Poi Al 41 Al 41 Cosa c'è? Una skin Bella Tipo God of War Stile Ci sta Forse è per la zona Del di vichinghi Il dettaprano è bello Sono delle ali Cioè non sono delle ali Tipo io ci avevo il dettaprano leggendario Quello delle ali che le tenevi No queste sono proprio ali Che c'è sulla schiena Non ali a cui ti aggrappi Perché quello esisteva già Oddio 51 cos'è? Ah no niente Ah infatti Fra Infatti Ma guarda Ma come cammini? Infatti Livello 60 Belli livello 60 Bella questa Ah quella è una hit Questa è una hit Questa è una hit E tra l'altro tutte queste skin hanno Poi sbloccheranno altri stili Quindi tanta roba Balletto viola? Ah è un suo balletto integrato Oddio guardalo Bello Fiero Anche se preferisco io lo stile normale Preferisco lo stile normale Poi abbiamo una skin Ma perché ha la grafica così questa skin? È vero Mi sembra Sì è vero È stranissima Però quando la evolvi Secondo me con altri stili Diventa fiera sta skin Perché ha questa grafica strana E infatti vediamo Al livello 79 Come diventa Scusa Ah fiera Ce sta Ce sta Non è la mia preferita Però Ce può stare Ce può stare Perché Sì appunto 83 Un gladiatore Ci sta Mi piace Carina Ci sta Soprattutto poi con gli stili Lo potenzi Ci sta Guarda il 96 Come diventa Bellissimo Mie È fotonico il 96 E poi Al 100 cosa c'è? Ah Sblocchi lo stile finale Della prima E c'è Baby Yoda Però al 100 Sì Yoda Avrei preferito Una skin Di solito C'è la skin Iniziale E quella fina Non puoi mettere La stessa skin Questa Scende di punti Per questa scelta Te lo dico Speriamo Faccia cose belle Sì 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 Però Per ora promette bene Questo fortnite Ma cazzo Un fito Ma cosa sono questi cristalli Danno roccia La roccia quindi Fra Ma Donna quanta ne danno Il dado Ricky Ti consiglio di venire qua Abbiamo mobile Sì Puoi stare sotto Fra Hanno rimesso il tattico Ah ti fa teletrasporto No Questa meccanica Mi piace un sacco È meglio di una corsa veloce Fa un teletrasporto Il ritorno Di pinnacoli Vabbè Vamonos Siamo qui Siamo tornati Finalmente Non è Pinnacoli pinnacoli È pinnacoli È un mix di varie case C'è veramente tanta roba Che però Mi sa che L'andiamo a provare in game Che ne pensi per ora Mi stai interessando Mi stai interessando Mi casa un voto Si vede che Per ora Penso sia la migliore season Di fortnite 2 Penso A mani basse E non abbiamo ancora giocato Quindi fai te Veramente tanta roba Vi ricordo Che se volete comprare Il pass di questa season Ovviamente Sempre codice CT crash Nessun supporto a un creatore Vuol cosa da dire Di chi aprivi il video? Nulla Mi raccomando Segui tutti TrashTV Ci vediamo in un prossimo video E niente Come si conclude il video Si Ok va bene Grazie a tutti